e ciao a tutti ragazzi ecco voi questo è un video tutorial come come si connette con il joystick dell'xbox s al tablet o telefono prima di tutto dovete accendere bluetooth ovviamente avete acceso abbiamo acceso bluetooth poi andate su opzioni qua guardate su bluetooth ecco ecco qua dovete accendere qui ecco si accenderà poi dovete schiacciare questo pulsante questo pulsante qua questo schiacciatelo e la pengerà velocissimo poi dovete perché se tu schiacci subito quando dice connessioni non connette quindi dovete andare su qua eliminarlo eliminarlo dopo si è scritto dispositivi disponibili xbox wireless control connettetevi dovete aspettare un po e connesso guardate connesso guardate adesso proviamo a giocare un gioco tipo minecraft avete visto stra bello non su minecraft ok sono su minecraft sono su minecraft adesso guardate non c'è su con una mano guardate 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 andate andate sulla cosa andate per giocare potete essere il mondo a casa adesso questo guardate devoicate avete questo joysticks liner vi faccio vedere altri giochi, non sul tablet, su xbox 1s, ecco, sono su minecraft guardate, guardate, non è un fake, guardate, non è un fake, guardate, non è un fake, stai scavando, ecco, e questo video finisce qua, lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al mio canale, ciao!